Ciao, benvenuti a Linea Pelle, un nuovo punto di vista da Milano, Italia. Oggi siamo in D-House, una collaborazione tra Linea Pelle e D-Lohan studio. Vi presentiamo un artista che prepara la customizzazione con alcune tecnologie. Vi presento ora al mister Loreto Di Rienzo, il proprietario di D-Lohan. Ciao, benvenuti a D-House, sono Loreto Di Rienzo, grazie per Linea Pelle. E noi rappresentiamo in questa edizione di Linea Pelle il nostro progetto D-House. D-House è un contenitore, quando dentro abbiamo diverse tecnologie, quando abbiamo un'esperienza incredibile. E noi diamiamo questa esperienza, questa tecnologia, alle artisti e ai designeri per fare un progetto particolare, un'idea particolare. Perché, per me, la tecnologia è un instrumento. in questo caso, interagiamo con NoCurve, lui è un artista molto fantastico, e lui ha un modo particolare di approcciare la tecnologia. e lui ha usato, in questo caso, il laser, il termowelding, e tutto in un modo molto migliore. Tutto è fatto con la lettera, e NoCurve si racconta dove è il progetto. Allora, vediamo cosa il nostro artiste NoCurve ha fatto per noi. Ciao, grazie. Sono molto felice di essere qui. Allora, il mio artista è fatto con un adesivo tape. Quindi, con D-House, abbiamo cercato di creare un nuovo modo di lavorare con la fashion con il stesso concepto. Abbiamo iniziato a usare diverse tecniche per realizzare un capello, come uno dei sciomani del futuro. Alcune come un uomo del futuro, usare in una città. Quindi, tutto il design è concentrato sui simboli protettivi dell'alchimia, è basato con il famoso film di Alessandro Jodorowsky, o il comico artiste Gérangeux Moebius per creare qualcosa di magico. Quindi, come la tecnologia ti aiuta a raccontare questo progetto? La traduzione è che Giorgio gioca con il tape. Giorgio gioca con la tecnologia e il termowelto. E questo è un progetto industrializzato. Giorgio gioca con l'opera artiste, e noi gioca con l'industrializzato. con l'alchimia è molto difficile creare qualcosa per il business, per il marketing. Quindi, con l'alchimia e materiale, come l'alchimia di altri brand, possiamo fare un prodotto, come per esempio, il mondo della fashion che crea un prodotto in futuro. Perché è molto difficile con l'alchimia normale. Ovviamente, possiamo creare l'alchimia contemporanea, ma in questo caso, abbiamo bisogno di qualcosa che potrebbe durare sempre, magari. magari. Quindi, come hai gestito con le colori? Hai una varietà di molte colori? Sì, perché, basicamente, preferisco lavorare con le colori. Especialmente ora, abbiamo questo momento con il Covid. Quindi, penso che sia meglio usare un colore molto potente. Il mio corpo è molto forte, molto potente, perché la geometria non è così umana. Abbiamo fatto un colore quindi, usare colori con la geometria è un'altra forma di balanzare la vita. Ok. Se possiamo dire in questo modo. Potete anche portare questa capa? Ok. Potete mostrare come portare questa capa? Ok. 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 Ah. Potete tornare oltre? Sì. Potete venire in fronte e mostrare come portare. Sì. Potete tornare. con il mondo. Sì. Questo ciò che avete a sotto? Oh, abbiamo il guru. È questo il guru? Il guru. Ok. Questo è il simbolo, l'alchimic symbol che è davvero fantastico. Tu ha fatto molto bene. Grazie. È un bel lavoro. Grazie. È un nuovo lavoro da questo. È simbolo, è matrico, creativo e incredibile. Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri artisti Noh Koops e ora vediamo come funziona la macchina di applicazione di questo.